Bello a tutti i burloni, sono Marci e benvenuti in questo nuovo video della Gravity Challenge Oggi siamo qui in campagna di Eren, Tech e Tirlet Hola pofino di YouTube La scorsa Gravity Challenge vi è piaciuta un sacco Quindi ho deciso di riportarvela Però voi dovete lasciare un mi piace perché è importantissimo Vi rispolvero un attimino le regole Chi arriva primo guadagna 5 punti Il secondo 4, il terzo 3 Il quarto 2 e il quinto 1 punto Vedremo chi vince la trama, Eren, Tearles e Tech Noi ci vediamo nel tuo video, lasciato mi piace importantissimo Bella Brutta Ragazzi E' uscita la più difficile Aspetta, questa qui dovrebbe essere tecnicamente abbastanza semplice No questa è fattibile E' quella verde questa Non me la ricordo E' Arctic, quella che nell'angolo a destra devi andare, Eren Esatto, bravo Marci Ma raga io ormai io Ma se ti togli Ma dov'è l'acqua Ma se ti togli Eren vai via No C'era in mezzo a ovunque Eren vai via Busso all'orario di punta qua No raga ce l'ha scritto in mezzo Ah ecco la lì Fatto, 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 fatto Fatto, fatto Ciao Marci Ciao gente Ciao Ciao Tech È stato bello L'ho fatto, l'ho fatto Oh mio Dio L'ho fatto anche tec E'amo già il secondo tutti No raga questo è facilissimo Oh cavolo E questa sarà la fine No raga l'ho fatto Ma no non è così difficile Marci Eh bisognava beccare la parte giusta Questo mi ricordo che c'era la parte giusta Raga io ho un cuore L'ho fatto Come ho fatto con un cuore Come sta succedendo per morire Ragazzi come sta succedendo Oh che bella questa Ecco questa Fatto, fatto, fatto No quasi l'ho quasi fatto Ma come fai questa No è fattibilissimo Ti devi stare praticamente al centro Ma porca di quella Forca Fattibilissimo No Fatto raga Questo qua non mi ricordo mai com'è Come è fatto Fatto Ma no ma c'è il vetro in mezzo alle balle Ok fatto 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 Pacman Ho fatto Pacman È a caso E basta andare a caso Ah questo qua Questo qua io so come farlo Eh se qualcuno me lo vuole dire No Ma questa è quella viola Quella impossibile No no quella impossibile è la quinta Fatto raga Ho finito Madonna dai Raga non ci voglio credere Un fail è basto Ho fatto Per sbaglio Come hai fatto solo un fail Solo un fail ho fatto Cioè questo è veramente impossibile Ma io vado a saltare tec raga Raga b ring è una cagata Buttatevi No b ring è facile Ma si ma b ring raga è b ring Tec ascolta C'è un centro Vedi che sei in un quadrato Che ti butti Tre per tre Buttati nel centro Grande Dov'è Eren Ah Eren ce l'ha fatta Ok ovviamente sapete le regole Sapete le regole della Gravity Challenge No No Allora ovviamente il primo Prende cinque punti Il secondo quattro Il terzo tre Il quarto due E il quinto uno Quindi per adesso Io ho cinque punti Eren tre Io ho zero Eh anch'io tec tranquillo Tec mi raccomi Tec fai come ti dico Vai in centro Perfetto e stai fermo Questo è da star fermo Eh ma sono in ce vedi Che pecco lo stesso Qua Ok Eh ce n'è uno lì in mezzo Eh devi passare perfettamente Sono in Sono a b ring Devo passare perfettamente Sì are No tec Per un pelo eh Tec no per un pelissimo Vediamo tearless Dov'è Tear potrebbe arrivare La b ring Tearless B ring Vai Sì tearless Ma b ring la conosco Porca troia Tearless l'ha fatta Sì Sì ce l'ha fatta Grande tec Tearless No tearless No No sono fuori classifica Fuori classifica Oddio Oddio No lo stavo facendo Ragazzi No raga Se faccio questa basta Non ci credo Sesto raga Non ci credo Che fortuna Mi hai deluso Dov'è il ponte Ci sono rimasto un po' male Sapete perché Perché noi siete in classifica Sono io Aaron Siamo in classifica Ma da marci ste wind Mamma mia Se vi scaricate le date Guardate Ragazzi No raga Questa è difficilissima Ma raga ma non l'ho mai vista In vita mia Ma dove devo andare Ma questa non l'ho fatta nemmeno io Raga Chiama Non so come funziona Io mi faccio andare Mi butto più tanti Mi butto da Forse ho capito dove andare Ma io non Dove è Tearless Aspetta che vadano gli altri Ma ti scogli No hai detto che hai capito Allora sto qua Forse Non hai detto Forse E vabbè sto qua E invece ce lo depista Cado E invece era giusto No Ce l'ho fatta anch'io Ciao Aaron Ciao Aaron Sono dietro di te Ciao Io sono dietro Marci No raga Questa è difficilissima Ma questa è una cagata Eh lo so Io ce l'avevo fatta Basta Adesso non ce la farò mai più Questa è facilissima raga Non è difficile Bisogna Fatto 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 la cronofobia Ah sì anche Aaron Non l'ho fatto Mannaggia Corriamo Corriamo Tearless No questo livello no Non di nuovo Qual è che livello è E' quello dei dolci No raga No quello dei dolci no raga Qual è Basta Dov'è che era qua No raga questo qua non l'ho mai capito L'ho fatto al primo colpo Ciao a tutti Ma dai Ma io non so dove si va Io a caso Sono andato a casissimo raga Ok hai fatto Oh non ce l'ho parole Non è giusto raga Non è giusto Ce l'ho fatta anch'io Ce l'ho fatta anch'io Non ci trovo Aaron Non ce l'ho parole Visto Pec come sta andando Questa è una cagata Questa è una cagata Questa è una cagata Quella dopo Sì ma il portale Dall'altra parte Era Marci Cavoli Sono qua con te Scusami Vulcano cos'è Sembra facile questo Sto prendendo tutto quello Che posso prendere Da qui Dov'è il portale Ah eccolo Non dirmi che vince Marci Di nuovo No sono caduto Ha vinto Aaron Sono caduto io Non so dov'è il portale Non me la carica Non me la carica Non me la carica Non me la carica Io sono Sono fatta Peccato Aaron T'avrei battuto Solo che mi sono schiengato No Marci no Che è successo Ti avevo quasi preso Oddio Comunque io vorrei Di chiedere al buon tech Dov'è Perché per me Per la disperazione Non parla più No io ci sono Ci sono Sono Ah ho fatto quello dei ragni Ho fatto il ragno adesso Quello è quello più difficile forse Comunque raga Mi dispiace Se è arrivato secondo Scusatemi È che praticamente Ho beccato l'ossidiana Per cercare di anticipare Aaron Sul portale Aaron plays the winner Della seconda partita Non era difficile 9 punti Marci 8 punti Aaron 3 punti Tirlas Che è praticamente Già fuori dai giochi Ma neanche A me Mi considera No ma tu hai già vinto Il primo fedeltà L'abbiamo detto Ah è vero Io sono l'unico pirla Che non mi c'è Niente Ragazzi Terza partita Non so Cos'è sta cosa Come funziona sta roba Ragazzi Ah è quella che devi rimbalzare Questa No no Non sono slime block Non sono slime block Dove sta la gente È vetro Io sto da Da tearless Stai lontano Ma che è sta cosa Non so dove andare Non si Non c'è lo spazio Non so da dove si va Non comprendo Ma si può iniziare o no Eren però se ti togli la Io non ti vedo C'ho dato il tuo nero in faccia Qua l'ho capito Qua Oh primo colpo con Marci Ah vabbè ma non era difficile Ciao L'ho fatto anche con qua Shaker qui non l'ho mai fatto Lo sapevo che dicevate così Ah questa qua dai Questa si l'ho mai vista Fatta Riuscirò a schiantarmi anche su questa Dritto dritto Eren dritto Fatta anche io gente Sono dietro di voi Sono dietro di voi Eren ha guadagnato sul Sul fatto che ha finito Prima Sull'atterraggio Sì Cosa è qua Ma questo è facile Come posso No Ma sono confuso con l'altro No Devo capire da che parte devo partire Vuoi arrivare prima di me lo stesso Perché sono finito dall'altra parte Ma va no Ho preso il ghiaccio Per anticiparvi Io qui ma Io uguale con Allora No raga Questa è difficile Questa è difficile Quella dell'ingranaggio è difficile Odio Uh fatta Sono giusto Come fatta Ciao Ciao Meridian trench Anche io ho fatto quello dell'ingranaggi No Tearless è un casino No meridian trench Qual è meridian trench? Oh non lo so Tanto non ci arriverò mai È quello che ho fatto Ragazzi Ciao c'è anche Marci La corsa Verso il primo posto Fatto anch'io Ciao Marci Ciao Marci No Oddio Cos'hai fatto? Ha failato? Oddio Sì 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 Cos'è successo? Sì Ma cosa? Raga Chiudiamo così Non facciamo una quarta Voglio il pareggio con Aaron Di giustezza Di giustezza Raga Ma io piango Dai Me lo meritavo Il secondo posto Allora Dall'alto Tearless Ho riflettuto sul fatto Se tu arrivavi Secondo Dovevamo fare un quarto Adesso sto scherzando Ovviamente Comunque Se arrivavi secondo Io arrivavo Secondo in classifica Sì sì Ho ben capito Perché c'era Aaron Ho detto Devo A mo' di spalleggio Devo per forza Fare qualcosa Per anticiparlo E ce l'ho fatto Mamma mia Intanto Tech Tech Buon Tech Come sta andando? Attenzione Attenzione A che livello è? Ha fatto clock Oh ha fatto clock Attenzione Questo è semplice Tech L'ultimo è semplice Aspetta com'è che devo andare? È segnato in rosso È semplice Ma è molto semplice Io l'ho fatto Al tipo Secondo No vai dall'altra parte Verso l'esterno vai Salta esatto Salta tutto verso l'esterno E poi rientra Ce l'ho fatta Mamma mia Si tec Raga se tec arriva vince Esatto Vince te Dai 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 30 secondi Sì l'ho fatta Sesto Di sesto vince 6 punti Raga Attenzione Pareggio con te Vabbè Quindi ragazzi Per questo video è tutto Spero che il video vi sia piaciuto I miei amici Mi stanno seguendo Tantissimo C'è stato un bel pareggio Con Eren E ovviamente Il secondo posto A questo punto Di Tec E il terzo posto Di Tearless E noi ci vediamo In un prossimo video Da Marcia è tutto Mi piace Passate la gare Tearless Tec E Eren Bella 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 Grazie.